Guarda un po', vieni qua, vieni qua, lo vedi quel buco là nella parete? Ecco lì c'è la scala che da qui sale sopra. Senti che posto, guarda che posto, Giorgio. È una cosa da non crederci veramente. Cioè è fuori dal tempo, fuori da... Esattamente. È una cosa stupenda. Roba che ricorda appunto il mito francescano e tutto il resto, i frattacchioni medievali. Tipica paleo-cristiana. Si, si. Potrà da pure. Ma bella dentro che è. Andiamo adesso andiamo. Si. Si paga due euro d'ingresso ma ne vale la pena. Che cazzo devi fare? Quando ci venivo io era aperto, quando venivo io a vent'anni e andavo in giro per tombe. Ma si può registrare? Certo. Quando andavo in giro per tombe ho scoperto sta cosa e era aperta, era in disuso, non era manco sacramentale. Certi approdi culturali sono arrivati recentissimamente. La riscoperta del mitraismo è recente. Si, si. L'avevano occultato appunto. Appunto. L'avversario va dileggiato, diffamato, occultato. È naturale, è ovvio. questa è la strada che si sale sopra. guarda. Guarda. Sono freschi dell'undicesimo secco. Si. Guarda, guarda un po'. Guarda l'arco lì, la volta. Guarda com'è fatta. Come l'hanno? Messa assieme. Tutti. Di pezzi. dei pezzi. È roba romana. Eh, si vede lontano meglio. Guarda. Però sono simbolismi paleocristiani però questi qua. Andavo. No, qui c'è il pavone, guarda. Sì, sì, lo so, ma sono simbolismi simbolo arabo. Sono simbolismi comunque paleocristiani. Grazie. Guarda che roba. Guarda che roba. no, cinque euro. Eh, allora niente. Allora, vi salutiamo e ce la diamo. Cinque euro. Eh, no, ma è come tutti i musei. Come tutti i musei. Sì, hai chiesto due euro. Eh, vabbè, due euro te li do pure. Ma mo' cinque euro, dai. Eh, no, ma ci sono uniformati tutti questi musei. Cinque euro tutti quanti, dai. Cinque euro tutti quanti, bene. Dai di cinque euro. Eh, ma no, ma no, ma la cultura deve essere libera, no? Eh, eh. No, che cosa c'entra? Questi sono... Tu sei una studentessa di architettura? No, ho fatto storia dell'arte. Ah, storia dell'arte. Io ci venivo qui nel 1969, 70 e venivamo a fare le tombe dalla parte di là del ponte del diabolo. Ah, 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 ah. E ho scoperto da notare che il motivo della maternità è veramente molto importante ed è praticamente a sé stante è importante notare questa cosa sono simbolismi che hanno sicuramente vita propria e poi ovviamente abbiamo le figurazioni sacerdotali questo è chiaro ma questo potrebbe essere anche una attestazione di autorità ovvero sia vuoi avere il permesso di esercitare la tua fede qua dentro va bene, devi onorare anche chi è il gestore questo è il mito di San Sebastiano e un'altra maternità ovviamente questo mi sembra un Sant'Agostino, è tipico sono bellissime anche queste accidenti queste processioni che ci ricordano quelle di Ravenna veramente è un interesse incredibile grazie grazie questo è un simbolismo talmente vicino a quello dei musai ciravennati che fa paura il periodo è quello sì sì ma questo è il quarto, quinto secolo questi si sono trasmessi questa cosa, capito? certo qualcuno ha accoppiato l'altro questo, ma questo Santa Polinare Nuovo, guarda esattamente Santa Polinare Nuovo ma guarda, hai visto il colonnato? la triplice è una vata classica, no? beh, classica è chiaro quella è delle basiliche ma questi che direi che sono uno diverso dall'altro sì sì tutti recuperati è il classico delle basiliche eccezionale dobbiamo ringraziare perché in effetti è una cosa assoluta ci hai portato in un posto incredibile ma tu vieni adesso in immagini sotto sì sì, adesso la vediamo non è qua sotto qui? come? ah, è sotto di là, sì sì sotto, sotto sì andiamo alla credita sì sì grazie a tutti grazie a tutti